a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video come al solito io sono gavri io birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo a un liquidozzo preso a barcellona al puff store di barcellona di samuele forelli abbiamo preso questo liquidozzo che si chiama army man 60 ml 60 ml che sarebbe alla cheesecake con il lime un buon liquidozzo bello denso non c'è scritto quant'è se 70 30 80 20 bello liquido 12 ml da roma hanno aggiunto loro la base neutro che hanno loro dei bottiglioni blu bello pieno buonissimo ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo o la cico ombre che passo per la capessa a provare questo liquidozzo vai gabrie provare sull'analisi cricket e l'intio e io sopra le curve insieme alla luxottica cammino si sente bene l'aroma con questi atomizzatori diciamo così da flower flower polmonare bello anche la boccetta c'è un uomo sopra un cararmato un cibo al dolce e anche buono si sente la cheesecake e poi il lime finale se riesco buonissimo molto cremoso si miscelato bene sia la torta con il limone non è che invade più il limone o la torta in parti uguali si sente si è equilibrato bene a quanto gli dai un'auto e mezzo da voi si se lo merita tutto se lo merita una linea buona so che c'è anche un dolce sempre cheesecake così con la fragola dovrebbe essere buono anche quello noi ringraziamo samuele forelli questo ragazzo che ci ha dato un consiglio della paffastore di barcelona buonissimo consigliamo lo consigliamo se lo trovate su qualche sito o anche su qualche mega store della paff così tanta roba tanta roba allora dalla caverna dello swap è tutto se avete vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a seguire ciao